L'idea di Aidea, che è un'associazione che rappresenta più di 2.000 docenti universitari e che ha ben 210 anni di storia, è quello di rafforzare una collaborazione che già nei fatti esiste, spesso a livello individuale, a livello geograficamente disperso, ma renderla organica e istituzionale fra i vari rami della giustizia. Riteniamo come docenti di economia aziendale, assieme ai commercialisti, spesso le due categorie si sovrappongono, di poter dare un ulteriore loro contributo su temi come il bilancio sociale, sull'efficienza, la misurazione della performance riguardo, in uno spirito di servizio al sistema del loro paese che già facciamo.